Senti, ma tu sei proprio sicuro di Duccio, sì? Sì, guarda, vedrai, ti stupirà. Scusa Duccio, qual è il campo? Qual è il campo? Quello del girama, Duccio. Ma non mi assillare, di breve. Duccio, Duccio, scusa, lo stai andando Alberto. Io so, nonno. Senti, la cravatta, me la posso togliere la cravatta? Togli, togliere, stai, basta che fai a recitare però. Zacca o maglione? Non lo so. Ma se è importante l'asta o il radio? Ma questa come parla? Io non capisco da dove proviene. Duccio, Duccio, è un 8401. Ma che minchia ne so, ma basta, dai! Alfredo, pure tu che cazzo vuoi? Certo, certo, è coffee break, signori. Ma come? Stai zitta!